Un dossier per mettere in luce tutte le attività portate avanti dai volontari delle associazioni per la salvaguardia di uno dei simboli più conosciuti da Bruzzo, l'orso bruno marsicano, una specie protetta che però, come riportato dalla cronaca, negli ultimi due anni ha perso alcuni suoi esemplari per l'assenza di strumenti che impedissero loro il contatto con l'uomo, le coltivazioni e gli animali d'allevamento. C'è bisogno di creare un clima di condivisione della presenza dell'orso, che è una grande risorsa ed è quindi possibile accettare e convivere con la sua presenza, facendo prevenzione, mettendo in sicurezza quelle che si chiamano le fonti trofiche, cioè i pollai, la frutta, insomma altre cose, semplicemente distribuendo le cinti elettrificate, facendo altre misure di questo tipo e soprattutto facendo informazione per salvaguardare questo animale straordinariamente prezioso e bello, che è il simbolo stesso della nostra regione e del quale rimangono purtroppo solo 50 esemplari. Sono stati i volontari di associazioni come dalla parte dell'orso, salviamo l'orso, il WWF, a sostenere l'onere di fornire 252 recinti elettrificati, la realizzazione di segnaletica stradale per impedirne l'investimento e l'acquisto emesso in opera di cassonetti dei rifiuti a prova di orso. Tutte cortezze che potessero evitare il superamento di confini difesi, spesso con l'utilizzo delle armi, dall'ingresso degli orsi, che come ricordano le associazioni, non costituiscono un pericolo per l'incolumità dell'uomo. Non si registrano infatti attacchi all'uomo da più di 100 anni. Il nostro orso è il più pacifico al mondo, non c'è nessun segno di alcun tipo di aggressività da parte di questo animale e non abbiamo nessun record di incidenti. Certo è che però gli animali selvatici devono stare nel bosco, non devono entrare in paese. In ogni caso, per evitare questo tipo di situazioni, la prima delle misure è quella di mettere in sicurezza le risorse che attraggono questi animali. L'appello infine è diretto alle istituzioni regionali che non hanno dato alcun segnale di tutela e sostegno al lavoro operato dai volontari. Un appello rivolto all'assessore regionale Donato Di Matteo, responsabile della tutela dei parchi e ancora Dino Pepe con la delega all'agricoltura e non ultimo Mario Mazzocca, rappresentante regionale di SEL con delega all'ambiente. Fare rete. Fare rete vuol dire collaborare tutti, enti deputati al governo del territorio, enti deputati alla tutela e soprattutto le associazioni ambientaliste che vivono in quei territori e che quindi sono in grado di fornire gli strumenti, anche il dialogo fra l'istituzione e il territorio stesso proprio per poter garantire che anche al di fuori delle aree protette l'orso possa comunque muoversi, come è giusto che sia, in tutta sicurezza.